Siamo giunti ai gentlemen, in questa terza del convegno, anziani sul doppio chilometro in sette, dietro le ali della macchina a corsa che per il momento vede favorita da Elegance, c'è Ivo Amodio in salchi, molto seguita anche Nidiozzo M, Viola Jet e anche un po' soffio, allineamento che va a completarsi, doppio chilometro, gentlemen, in sette, via la macchina, ottimo l'allineamento, via la macchina in velocità, si ritrae soffio, The Elegance al centro, nei confronti di Linus OM, insiste The Elegance all'attacco della piegata e va al comando. E così The Elegance LF con Ivo Amodio, leader al completamento del lancio iniziale. Lancio che se ne va nell'ordine del 14.8 e di fronte ha preso un po' di vantaggio e ora può cercare di ridurre un po' il ritmo il leader dopo lo strappo e va a completare il quarto iniziale in 30 e un po' di spiccioli. Ha ridotto drasticamente l'andatura il leader e i cavalli affrontano ora la seconda curva. In terza posizione Thelma Griff con il buon curato. 46 a 7.600 e Nilos si affaccia un pochettino per cercare di far andare via nuovamente The Elegance. Si va al completamento della piegata e anche del mezzomiglio. Mezzomiglio si va al completamento del primo chilometro. La targata LF lo passa in 18.6 e i cavalli affrontano la piegata e l'Allisonalov affidato a Ivo Amodio, leader nei confronti di Nilos e Thelma. Mezzomiglio alla conclusione. Una frazione in 15.4 impiegata. I cavalli che affrontano il penultimo rettilineo. Non avvengono variazioni sostanziali, solo CAF si migliora leggermente. Paletto dei 600 finali. 14.7 di fronte, a largo di tutti soffio, ma chiaramente trova un po' di traffico, mentre Nilos abbandona i birilli e va a sud. Elegance. E anticipa solo CAF. Valia al completamento della curva finale, i due perfettamente apparigliati. Retta d'arrivo con Nilos OM che rinnova gli attacchi a The Elegance, che tenta di allungare, ma Nilos insiste, appariglia di Elegance. Lotta serrata tra i due. Ma il buon Simioli, signori, niente da fare. Riena a fare. Nilos, facile. Terzo, un opportunista, ma ottimo solo CAF, che ha girato sempre a largo. 2.32, 1.16, vittoria personale di Antonio Simioli su un'ottima conivo Amodio, mentre Gargiulo porta a casa la terza moneta. Totalizzatore che borbotta 2.65. Nilos OM, la griff di Simioli. Linea allo studio. Grazie. 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 Grazie.